La depressione postpartum è una depressione maggiore che interessa una mamma su sei in tutto il mondo, non risparmia nessuna classe sociale, non va confusa con il maternity blues o il baby blues che è una condizione molto frequente che riguarda anche tre mamme su quattro e che è caratterizzata da un rapido sbalzo dell'umore. Non bisogna preoccuparsi, non bisogna fare niente. La depressione postpartum invece è un argomento molto importante che va affrontato con grande determinazione. Attualmente viene fatto uno screening con un test chiamato la scala di Edimburgo e in questo studio abbiamo voluto utilizzare l'intelligenza artificiale per fare uno screening possibilmente ancora più preciso, più meticoloso e più approfondito rispetto a quello che viene fatto attualmente. E quindi abbiamo utilizzato un test che si chiama Talking About, che è un algoritmo di intelligenza artificiale che analizza la voce ed è in grado con pochi secondi di ascolto della voce della neomamma di valutare le emozioni senza condizionamenti esterni. Abbiamo raccolto dati anamnestici delle mamme, abbiamo somministrato il test, è stato registrato con un tablet e poi abbiamo valutato le varie componenti della voce in maniera tale da poter valutare quelle che erano le emozioni fondamentali della voce. Abbiamo poi utilizzato questo test in due condizioni particolari, la prima è un laboratorio di ostetricia, le mamme nel percuario e l'altro l'ambulatorio chiamato SOS Mammi che è un nostro ambulatorio per l'aiuto, l'allattamento al seno e la patologia minore che abbiamo nella nostra Università di Cagliari, nella azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. In totale abbiamo coinvolto 154 mamme e i risultati sono interessanti perché abbiamo potuto valutare le emozioni principali delle mamme, poi le abbiamo confrontate con la scala di riferimento che è la scala di Edimburgo, abbiamo trovato un'ottima correlazione con la scala di Edimburgo e riteniamo che questi studi siano interessanti perché ci consentono di avere, come dicevo prima, un approccio molto oggettivo, non condizionato da elementi esterni, per esempio la partecipazione della madre e della madre oppure del partner che possono in maniera conscia o inconscia condizionare appunto la risposta della madre e avere quindi una valutazione ancora più aggettiva di quella che viene fatta oggi. Quindi questo potrebbe rappresentare uno screening precoce della depressione postpartum in modo da poter intervenire molto precocemente nell'aiutare la neomamma. Riteniamo che questo screening possa anche essere applicato per lo screening della depressione postpartum dei padri, che è un argomento poco conosciuto ma altrettanto importante, che si manifesta attraverso una sintomatologia diversa rispetto a quella delle madri, caratterizzato più dalle menti di ansia e anche di aggressività. È molto importante che il neonato entri in relazione ottimale con la madre in particolare, ma più in generale con i genitori, perché questa mancanza di allineamento al momento della nascita poi può creare una serie di problemi psicologici maggiori. Quindi questo è un esempio di come l'intelligenza artificiale possa intervenire in aiuto in campo medico, in particolare nel campo della depressione materna postpartum, che è un argomento di crescente importanza e durante il lockdown ha ulteriormente aumentato la sua frequenza.